Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della prima vera notizia di mercato ovvero che l'Atalanta si riscatterà De Miral ma poi lo cederà subito. Prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare un like e dopo aver visto il video un commento così so anche un po' cosa ne pensate. Ora la situazione di De Miral non è che meriterebbe poi un gran video perché è abbastanza sterile, il concetto è che l'Atalanta non ci smena, lo prende, lo gira. Però siccome qua siamo abbastanza liberi, abbiamo anche la possibilità di azzardare qualcosa, io vorrei fare una riflessione perché che la situazione di De Miral non fosse così nitida l'avevano capito tutti. L'esclusione dalla formazione titolare praticamente nell'ultimo mese, un paio di cambi, un po' così. Insomma era palese che qualcosa non stesse funzionando. Come al solito tutti si sono prodigati per farci sapere che non c'era niente, che andava tutto bene e che magari era solo una scelta tecnica ma poi vedremo che è molto molto improbabile che sia una scelta tecnica. E poi è arrivata la notizia. Notizia che tra l'altro era già stato un po' anticipata dai canali della Juve, penso erano agresti così, i quali parlavano di un riscatto ma avevano già ipotizzato cifre un po' più basse e quindi rispetto ai famosi 28 milioni. Quindi probabilmente anche dei bonus non sono stati fatti scattare. Ma andiamo per ordine. All'inizio c'è stato raccontato che Gasperini ha messo un panchino a De Miral per scelta tecnica. scelta tecnica che per carità è libera e legittima però se io penso a De Miral e alle sue prestazioni, compreso quelle in cui non ha brillato e penso agli altri difensori, non ci vedo onestamente così tanto un abisso da meritare la panchina così come da essere rimpiazzato da Deron. Uno se vuole la può mandare giù senza problemi perché alla fine è chiaramente una bugia a fin di bene ma è palese che l'esclusione del difensore più forte non può essere una scelta tecnica, poi tutto a sto mondo ognuno pensa come vuole però se è veramente una scelta tecnica è una scelta tecnica parecchio discutibile. È molto più probabile che ci siano delle motivazioni extracampo. nella fattispecie io ne tiro in novinare tre, poi siamo sempre al punto di prima, se qualcuno parlasse sarebbe tutto più facile, salterà fuori quello che mi dice che la società non ci deve dire niente e io ho una visione dello sport, dell'informazione molto british per cui secondo me tu mi devi dire tutto. Ora la prima cosa che io ho pensato è che Demirala Mercato è un giocatore comunque da grande squadra e di conseguenza fuori dall'Europa non ci voglia stare, è stato qua anche relativamente poco per legarsi alla piazza e quindi ci sta per legittime ambizioni che lui chieda di andare a giocare altrove, non la vedo una cosa così clamorosa. Non so se questo basta giustificare l'esclusione nell'ultimo mese, cosa che secondo me ha anche contribuito a farci perdere qualche punto, però potrebbe essere così come potrebbe essere benissimo. Altra cosa che probabilmente ha un fondo di verità che l'Atalanta si lo voglia riscattare ma poi non abbia la capacità, anzi probabilmente la capacità ce l'ha ma non ha la voglia di sostenere un ingaggio pesante perché ora contrattualmente io non so Demirala come messo ma suppongo che sia previsto un rinnovo dopo il riscatto, cosa che l'Atalanta non ha alcuna intenzione di fare perché magari il giocatore chiede delle cifre che non sono alla portata. E infine l'ultima cosa è che ci siano stati delle divergenze di natura calcistica col mister, cosa che uno non ci dobbiamo mettere le mani nei capelli, non è nel primo né l'ultimo, cosa che potrebbe secondo me anche spiegare un po' meglio il tutto, il perché lo togli, perché secondo me anche se sai che non vuole restare, io la stagione la finisco con chi ho comprato. E insomma purtroppo noi non sapremo mai la verità, sta di fatto che lo riscattiamo e lo vendiamo. Dove lo vendiamo e a quanto lo vendiamo dovremo cercare di capirlo, io credo che sia abbastanza evidente che il mercato più idoneo per Demirals è l'Inghilterra, un mercato dove strapagano e dove può comunque avere un certo appeal un giocatore così grintoso. Ad essere onesti, un giocatore che tra una storia e l'altra ti ha costato sui 25-28 milioni, io credo che la cifra congola di vendita sarà sui 45, qualcuno ipotizza anche 50 magari con i bonus, però sotto secondo me mi sembrerebbe un'operazione un po' tempo perso, cioè è vero che non ho investiti 30 e anche se ne recupero 36 ci sono guadagnati 6, però tendenzialmente nel mondo del calcio le operazioni si fanno con un margine molto più alto, quindi io credo che le cifre saranno dai 45, attorno ai 45 verso l'Inghilterra. Per quanto riguarda invece il fronte interno, la cessione di Demirals ci offre comunque l'occasione di vedere come si comporterà la società, perché va a metterla in una situazione molto difficile, perché io vorrei ricordare che non solo abbiamo Lovato, che secondo me si è comportato molto bene, ma abbiamo anche Occolli disponibile, oltre che Asciutalo che però forse si può operare, insomma, quindi se si libera un posto in difesa verrà utilizzato un giocatore in prestito, verrà definitivamente abbassato il Derone, ha comprato un nuovo centrocampista, cioè si aprono una serie di aspetti tutt'altro che secondari, anche alla luce del fatto che comunque la partenza di Demirals, chi c'ha il naso un po', chi c'ha un po' il fiuto l'abbiamo già capita, e di nomi legati alla difesa non ne sono emersi, quindi può essere veramente che l'Atalanta decide di rimpiazzare Demirals con una soluzione interna, che tra l'altro l'abbiamo vista anche nelle ultime giornate di campionato con Derone abbassato, però lì secondo me è importante perché ti fa capire qual è il solco che vuoi percorrere, perché se tu mi togli Demirals e mi metti solo in Lovato, con tutta la grande stima che io ho in Lovato, hai in mente un progetto che non è nel breve, quantomeno per la difesa. Se tu invece, o poi magari mi sorprendi e fa una prestazione incredibile, però così sulla carta io lo leggerei come un ricambio in cui anche se nel breve magari ci perdo qualcosa, ma sul lungo posso andare a compensare. Mentre se l'uscita di un difensore di quel valore viene rimpiazzata con un difensore di altrettanto valore, allora i racconti cambiano e cambiano anche di parecchio, perché sarebbe il primo passo interessante verso la costruzione di una nuova squadra e anche una piccola dichiarazione di intenti verso il progetto. È un passaggio che secondo me verrà anche risolto in maniera abbastanza rapida, perché io comunque continuo a credere che col campionato che viene anticipato per via del mondiale in Qatar, il mercato va fatto presto, molto presto e va fatto con una certa dinamicità. E quindi continuo a credere che già nelle prime settimane di luglio ci sarà il clou dei movimenti. Però ecco, questa situazione secondo me è una bel test di prova per la dirigenza e per farci capire, perché poi lo dovremo capire in questo modo, visto che tanto quelli non parlano, qual è l'impianto su cui si vuole costruire una nuova squadra e quali sono poi ovviamente gli orizzonti, che si possono anche sempre rivalutare, ci mancherebbe altro, nei quali si vuole lavorare. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, vi ho già un po' sondato sui vari social, però mi piacerebbe avere da voi un'opinione. So che molti dopo la ci sono anche di Romero queste operazioni non le gradiscono, altri invece ormai sono rassegnati e ci vedono già giocare contro tutto cuoio fa un paio d'anni. Insomma, sono curioso di leggervi e capire un po' qual è la vostra sensazione e soprattutto come vorreste veder rimpiazzato questo giocatore. Io come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!